Quindi vediamo questi tre punti assoluti, tre punti d'appoggio, quindi una parte dallo strato della materia rarifatta, l'altro è la luce della norma assoluta, lo spazio della norma assoluta. Il secondo è che cos'è la vita, quindi come Dio ha creato questo impulso, quindi vediamo che cos'è questo impulso. Il secondo è che il prognoso, vediamo che è tutto bene e si è scoperto che erano alcuni impianti. Vediamo anche la terza cosa, cioè la previsione, la prognosi. In questa previsione vediamo che tutto va bene e non ci sono dei problemi. Queste tre punti sono, ovviamente, svolgono, non possono svitare, ma il sveto è un sfero. Quindi vediamo questi tre punti d'appoggio che sono più tanti e vediamo che poi questi tre punti creano una sfera. E così otteniamo un modello contraterroristico che in geometria appare nella forma di una sfera. E quindi noi vediamo, per esempio, ci concentriamo sulle immagini. di una persona in questa sfera, ci concentriamo sulla luce in questa sfera e vediamo come si svolge la ricostruzione completa. Noi abbiamo il piano. Il piano è che una persona deve essere felice, sana e quindi noi realizziamo questo piano allo stesso tempo realizzando la prevenzione di un qualsiasi problema possibile, potenziale. E quindi Grigori Petrovic dice che una persona deve utilizzare questo sistema per la cura, per la guarigione. Per questo abbiamo costruito i punti d'appoggio. Poi portiamo le informazioni negative attraverso lo strato della materia era rifatta e poi troviamo la luce in questo strato della materia era rifatta. troviamo la luce della norma, la portiamo verso la persona e poi quindi questa luce della norma sostituisce tutte le cose negative, creando così uno spazio sicuro. E poi creiamo il prossimo livello della salute, il livello successivo della salute e vediamo questo livello positivo che si svolge. Questa sistema è molto importante, adesso dobbiamo superare un sistema molto complicato. quindi dobbiamo per esempio cambiare anche lo svolgimento di una malattia in una persona perché dobbiamo cambiare questo svolgimento verso la salute, verso la guarigione. per esempio di una malattia in una malattia in una malattia in una malattia di un sistema informazione. E quindi allora per la persona vivente che non è trapassata, si esclude il frammento della risoluzione come un'informazione non necessaria.